Grazie Presidente. Allora, diciamo innanzitutto che l'emergenza legata ai rifiuti è decretata dalle ASL e in questo momento non c'è nessuna emergenza, c'è una forte criticità ovviamente, questo è chiaro che è così ma la parola emergenza legata ai rifiuti è una parola che proprio viene decretata dalle ASL, non siamo neanche noi e dunque sono loro che eventualmente la decretano e fino ad oggi ovviamente ci sono dei contatti continui questa cosa non è avvenuta. Il punto vero è che noi l'abbiamo comunicato più volte ma a questa città noi siamo arrivati, aveva quattro impianti di trattamento meccanico biologico, uno improvvisamente in pieno inverno è stato incendiato e la cosa particolare, la difficoltà nella quale ci stiamo trovando in questi giorni è che altri due impianti di colari che sono sotto il commissario prefettizio sono in manutenzione questa cosa ci è stata comunicata due mesi fa, ci stiamo ritrovando non solo senza un impianto incendiato ma di fatto i due impianti di colari da 1200 tonnellate al giorno stanno trattando 500 tonnellate al giorno è come se noi invece di avere quattro impianti a disposizione all'improvviso ne avessimo meno di due e questa è la difficoltà per cui noi ci stiamo trovando in questo momento allora sappiamo tutti che le responsabilità dei comuni è quella della raccolta quelle delle regioni è di indicare la destinazione dei rifiuti in questo momento la regione Lazio dovrebbe mettere il suo impegno completo a far sì di aiutare Roma a trovare destinazione ai rifiuti su questa completezza delle volte noi abbiamo sinceramente qualche dubbio mi premevi dire solo due cose molto velocemente è stato detto finalmente la regione Lazio sta per approvare il nuovo piano dei rifiuti peccato che era praticamente inattuato dal 2013 e quello che ha fatto la regione Azio nel 2019 è approvare le linee guida non il piano dei rifiuti ed è dal 2013 che deve essere fatta questa operazione non solo ci viene imputato a noi il contratto di servizio quando dice l'avete approvato con qualche mese di ritardo quando l'ultimo contratto di servizio è stato realizzato da tronca e quello precedente per dieci anni in proroga dieci anni tutti quelli che hanno governato dal 2008 a oggi non sono stati in grado di fare un contratto di servizio noi oggi abbiamo un nuovo contratto di servizio e la situazione nella quale ci avete lasciato questa città sono le difficoltà per le quali ci ritroviamo a dover trattare i rifiuti a questa mozione voteremo no grazie grazie grazie